Il Catania, nell'escorsiore, dopo qualche settimana dall'annuncio ufficiale, ha abbracciato il tecnico per la prossima stagione. Luca Tabbiani, in difesa, la società etnea punta all'esperto nonché ex difensore dell'Avelino Marco Perrotta. Dopo il termine della stagione alla Provercelli, si prepara una nuova avventura per il centrale di Campobasso, con la maglia dei Leoni Bianchi, Perrotta ha collezionato 30 presenze e due gol nella stagione 2022-2023. Da tempo, il Bari segue Rashid Kouda, centrocampista centrale classe 2002, di proprietà del Picerno. Il club pugliese starebbe per fare un'offerta al prospetto rosso-blu, su cui c'è anche il Sutirol, pronto a presentare la sua proposta al club nei prossimi giorni. I Lucani hanno messo nel mirino Sevo Cico, dopo l'incredibile annata con la maglia del Dertona nel girone A di Serdi e al centro di diversi rumors di mercato. Quattro colpi in arrivo per il Monopoli di Tomei. I biancoverdi sarebbero ad un passo dall'accordo con il difensore Riccardo Cargnellutti, scuola Roma, nell'ultima stagione alla Gelbison. Il portiere Tommaso Nobile, che verrà prelevato a titolo definitivo dal Foggia, il terzino Anthony Angilleri, in scadenza contrattale con il Messina, e il centrocampista Lorenzo Veschedola, di Proveda dell'Inter, e impresso al latino in questa stagione. I pugliesi, inoltre, starebbero trattando uno scambio con il Renate. In beanza andrebbe il trecortista Mattia Rolando, percorso inverso per il difensore Manuel Ferrini. Il Foggia, dopo la sconfitta in finale play-off con il Lecco e l'addio di Dalle Rossi, continua il casting per il nuovo allenatore. Tanti nomi al vaglio della società pugliese. Canonico, ha messo in prima fila il nome di Michele Pazienza dopo il suo addio all'audace. Cerignola!